Il lungo ed entusiasmante viaggio di costruzione dell'International Eurotask Gathering, la 23esma Eurotask Conference che si terrà in Toscana dal 4 all'8 ottobre ha raggiunto un altro importante step. È online il programma pressoché completo. E allora diamo un po' di numeri. Ci saranno 9 guest speakers stellari, protagonisti precursori della prima ora del movimento transpersonale, grandi vecchi, grandi saggi del transpersonale come Jim Ferdiman e Roger Wolves. Ci saranno personaggi noti mondialmente come Hamid Goswami e Erwin Laszlo. Ci sarà una coppia di sciamani dell'Equodal portatori della tradizione originaria e un lama rimpoce della tradizione buddista. Ci saranno poi 53 outstanding speaker, relatori di eccezione dai quattro angoli del pianeta, accademici, professionisti, clinici, ricercatori, che porteranno nei TED Talk Style le loro più recenti acquisizioni, la loro anima, il loro cuore, la loro conoscenza, punti di riflessione per continuare il nostro viaggio, di comprensione e di essere realizzati di noi stessi. E poi ci saranno 68 workshop, ci saranno 10 cerchi di medicina, 17 cerimonie, 3 online panel, ci sarà un film, ci saranno pre e post conference, 3 per la precisione, ci sarà un tour di 3 giorni di immersione nel mondo rinascimentale. Quindi 160 eventi, 152 speaker da 37 nazioni, compreso India, Cina, Australia, Sudafrica, Canada, Brasile, Messico, Peru, Stati Uniti, Porto Rico, Israele, i più paesi d'Europa, Ucraina, Moldavia, Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Germania, Norvegia, Olanda, Irlanda, Coazia, Svizzera, Romania, Estonia, Lettonia, Grecia, Gran Bretagna, Malta e, of course, Italy e Italia, ovviamente. Non vi resta che tenervi qualche giorno di ferie per godermelo nel fantastico Garden Toscana Resort di San Vincenzo. Non vi resta che condividere. Abbiamo raggiunto e superato i 300 partecipanti a due mesi e mezzo dall'evento. Vi aspettiamo.